Eccoci tornati di nuovo in studio, sempre con il dottor Pelagalli e il dottor Simonacci per parlare delle lesioni infiammatorie, pretumorali e di tumori della vulva. Ecco, continuando un attimo il discorso di prima, dottor Pelagalli e poi magari andiamo alle domande ai nostri telespettatori, le volevo chiedere, le lesioni cancerose della vulva si possono prevenire? Sì, si possono assolutamente prevenire con un controllo annuale che dovrebbe essere sempre fatto da parte delle pazienti, sia per quanto riguarda altri organi come possono essere il collo dell'utero e l'ovaio, ma soprattutto per la vulva, perché in realtà il concetto spesso e volentieri è che quest'organo sia un po' accessorio rispetto a tutti gli altri. In realtà così non è, è un organo che ha una serie di funzioni e ha anche una serie di patologie. Nella visita annuale che viene fatta, dalla semplice ispezione vulvare che il curante può effettuare, emergono con rapidità tutte le problematiche di cui stasera abbiamo parlato. Quindi è difficile poter sottostimare un'ulcera o una lesione papillare o qualcosa del genere, ecco. Bene, dottor Simonacci, la presenza di macchia sulla vulva è un segno preoccupante? Può essere un segno preoccupante perché l'insorgenza delle macchie che noi cataloghiamo come macchie bianche, macchie rosso, macchie nere o scure, può rappresentare un inizio di una patologia di tipo neoplastico e quindi vanno sicuramente controllate ed eventualmente anche biopsiate. Ad esempio la macchia bianca si può identificare con un inizio, una leucoplachia, un inizio di un carcinoma squamoso di cui ha già parlato il dottor Pellagalli. La macchia rossa invece lo stesso può rappresentare anche questa, l'inizio di un carcinoma, un carcinoma in situ che se viene, magari queste sono macchie in genere che hanno anche prurito, che se non viene controllata, biopsiata e diagnosticata può portare nel tempo all'insorgenza di carcinomi. Come effettuare, dottore, la prevenzione delle lesioni vulvari pigmentate? Lesioni vulvari pigmentate, apparentemente non sono frequenti, però ci sono. Niente, con una semplice visita, la visita, un'ispezione vulvare ed eventualmente la biopsia. La biopsia è d'obbligo nelle lesioni vulvari pigmentate perché il più delle volte queste lesioni pigmentarie che vanno dal nero al bruno scuro, o anche al biancastro, bluastro, possono rappresentare l'esito di processi infiammatori, che possono essere anche il lichene o anche processi infiammatori ripetuti a livello vulvare. Quindi in questo caso non sono altro che delle macchie innocue, però vanno sempre biopsiate perché la distinzione da un melanoma iniziale, che è presente anche nella vulva purtroppo, è possibile farla magari con un esame bioptico, quando non è possibile farla clinicamente. Bene. Dottor Pellagalli, quali sono i concetti chiave che possiamo dare alle nostre telespettatrici, che devono ricordare alle nostre telespettatrici per magari prevenire queste patologie o comunque risolverle in tempo utile? Io direi che il concetto fondamentale è quello di fare controlli periodici, non molto distanti fra di loro, quindi non uno ogni cinque anni, ma una volta all'anno, facendo la visita ginecologica o dermatologica annuale, dare un'occhiata anche a quest'organo, a quest'area, che è anche un'area molto vasta. Per quanto riguarda invece donne che abbiano avuto una precedente infezione da papillomavirus, sicuramente è opportuno che facciano dei controlli periodici e soprattutto, dal punto di vista oncologico, credo che sia la cosa più importante, l'insorgenza di un prurito che non recede né con delle terapie di base, né dopo almeno una diecina di giorni, ma che persiste e non si modifica, è già un'indicazione ad effettuare una visita per approfondire le ricerche inerenti a quel sintomo. Quindi direi che il prurito di per sé è molto generico, però è proprio il prurito che persiste che deve indurre ad accelerare i controlli in caso di un problema vulvare. Bene, ora andiamo alle domande dei nostri telespettatori. Abbiamo Patrizia Di Macerata che chiede, l'uso continuativo di pomate a base di ormoni per la secchezza vaginale in menopausa può essere causa dell'insorgere di tumori? Allora, per quanto riguarda l'uso continuativo, ovviamente non a livello della vulva, in quanto la vulva ne beneficia, però l'uso continuativo di sostanze ormonali favorisce la penetrazione per via sistemica, quindi l'unico organo che ne può risentire e che quindi può modificare il suo stato, specialmente in un'epoca menopausale, è l'utero. Pertanto, se si fa uso protratto, prolungato per anni di creme di tipo ormonale, va controllato l'ispessimento dell'endometrio. Poi abbiamo Chiara Di Portorecanati che chiede, il PAP test è un esame esaustivo per verificare l'insorgenza di un tumore vaginale? Direi che il PAP test può essere un esame che ci evidenzia la presenza di una lesione del collo dell'utero. Da quella lesione, una volta documentata la presenza del papilloma, si può andare a ricercare la presenza di lesioni analoghe o simili a livello vaginale e a livello vulvare. Quindi possiamo dire che il PAP test per la vulva non è specifico, però può essere un campanello d'allarme. Bene, poi abbiamo Lorella Di Fossombrone che dice la menopausa mi ha causato una grande secchezza vaginale e chiede avere rapporti, può provocarmi delle lesioni che poi possono portare a danni seri? Ma direi che avere rapporti se si ha una secchezza vaginale molto importante è moltissimo fastidioso, quindi direi che il rimedio andrebbe trovato o attraverso sostanze ormonali o anche non ormonali lubrificanti. L'unica lesione che può verificarsi in questo caso è una lesione traumatica, quindi screpolature, spaccature, piccole perdite, infiammazioni sono di routine in questi casi. Poi abbiamo Giuliana Di Ancona che chiede il carcinoma squamoso, ho letto che è determinato da una lesione della cervice uterina, ma come si fa ad accorgersi di queste lesioni se non si hanno sintomi? Ma la maggior parte di questi tipi di lesioni non dà sintomi. Il carcinoma squamocellulare del collo dell'utero si diagnostica o perlomeno si ipotizza essere presente con un pap test patologico. Per quanto riguarda la vulva il discorso è un po' diverso, perché avere un carcinoma squamocellulare vulvare in assenza completa di sintomi è molto difficile, il più delle volte il sintomo principale riguarda il prurito. Poi abbiamo Paola Di Fermo che chiede i prodotti lubrificanti sono sempre sicuri? Dipende, dipende come si usano, come sono fatti e che cosa contengono. Se contengono grandi quantità ormonali possono non essere sicuri. Se contengono sostanze più o meno naturali direi che possono difficilmente essere lesivi. Bene, poi dottor Simonacci abbiamo Tiziana Di Falconara che chiede è vero che si possono formare melanomi anche nella vulva, come mai? Sì, purtroppo sì, ne ho parlato poco fa. Si possono formare, possono rappresentare una degenerazione di un nevo preesistente, un nevo che magari uno ha da tanti anni, come possono rappresentare anche l'insorgenza a volte di un melanoma che insorge su un organo integro. Però consideriamo che il melanoma vulvare è estremamente raro. Però questa rarità non deve magari destare una certa trascuratezza. Le lesioni pigmentari a livello vulvare e che anche il soggetto stesso può controllare con l'asilo di uno specchietto la presenza di queste lesioni. Non bisogna vergognarsi di controllarsi e quindi è molto importante. Se si individua una lesione sospetta va sempre fatta a vedere o al ginecologo o al dermatologo. Bene. E poi abbiamo Clara Di Macerata che chiede, dei sarcomi rai genitali, possono insorgere anche in giovane età? Purtroppo sì, sono estremamente rari i sarcomi vulvari e ancora più rari sono i sarcomi in giovane età. Però in letteratura sono menzionati, sono presenti purtroppo questi sarcomi. Poi abbiamo Elisabetta Di Pesaro che chiede, da che cosa è determinata la comparsa dei sarcomi nella vulva? Non c'è un motivo specifico. Il sarcoma può essere, più delle volte, un rabdomiosarcoma o un leiomiosarcoma, cioè sarcomi che insorgono dal tessuto muscolare presente anche in traccia a livello della vulva. Non ci sono delle cause specifiche? Non ci sono cause specifiche, purtroppo è l'imponderabile. Poi abbiamo Martina Di Fano che dice, ho subito un intervento per infezione da papilloma virus, ora ho 40 anni e di recente ho avuto un figlio. Le chiedo, ormai posso considerarmi guarita? Io penso di sì, perché dopo una volta eliminate le lesioni, si instaura anche un meccanismo di rifesa all'interno dell'organismo, nel senso che l'organismo produce anticorpi contro questi virus che hanno determinato queste lesioni. Per cui alla sua età penso che possa essere a posto. Bene, poi abbiamo pieno di... Però è sempre bene farlo. È sempre bene farlo, non tanto per le lesioni, quanto per la presenza, cioè questi virus possono essere cancerogeni. Certo. Poi abbiamo pieno di Montecassiano, lavarsi i genitali con saponi troppo aggressivi, potrebbe modificare la mucosa vaginale e quindi esporla a rischio di tumore? Ma a rischio di tumore, cioè, è molto distante, nel senso che l'alterazione della flora microbica determina un prurido, prurido che può cronicizzare, il prurido cronico con grattamento determina lesioni distrofiche, che è un processo molto molto lungo. Quindi dire che l'alterazione della flora microbica porta al tumore in modo diretto non è così semplice. Bene. Dottor Perlagalle, abbiamo Simone di San Benedetto, che dice, un utero fibromatoso e le pareti vaginali molto delicate, che si spaccano facilmente. Potrei essere, scusi, più predisposta ad avere tumori? Che fare? No, direi predisposta ad avere tumori? No, non è nessuna delle due condizioni favorente. L'utero fibromatoso di per sé, se non è veramente un utero terribilmente fibromatoso, non controindica neanche l'utilizzo di sostanze che possano diventare protettive per le pareti vaginali e vulvari. Quindi direi che potrebbe utilizzare la signora dei prodotti non necessariamente ormonali, ma idratanti e maggiormente protettivi. Poi abbiamo Caterina Diosimo che chiede, che cosa si intende per stile di vita sano in riferimento al tumore della vulva? Il primo presidio per definire uno stile di vita sano è quello di proteggersi, o quantomeno cercare di farlo, dalle infezioni virali da papillomavirus. Questo è sicuramente, e in questo senso la vaccinazione è fondamentale. Ma è fondamentale anche in quelle pazienti che hanno avuto l'infezione e che pensano che proprio perché hanno avuto l'infezione non debbano vaccinarsi. In realtà la vaccinazione agisce anche sulle pazienti che sono state già infettate, innanzitutto proteggendole per quei ceppi virali che non hanno contratto. E poi comportandosi nei confronti del virus presente, nei confronti dell'agente infettivo, con un effetto che in medicina mi ha chiamato effetto booster, che è un effetto potenziante la risposta contro l'agente infettivo che ha infettato l'individuo. Pertanto questo è già sicuramente una buona norma per proteggersi. E poi chiaramente cercare di avere una vita sana, un'alimentazione sana, evitare il fumo, ed evitare tutti quegli elementi che possono indurre nei soggetti un immunodepressione, quindi un abbassamento importante delle difese. Sembra stupito dirlo, ma in questo senso lo stress quotidiano ripete un ruolo abbastanza importante. Certo. Poi abbiamo Lucia Di Fano che chiede quali sono i controlli per prevenire il tumore della vulva e con quale cadenza devono essere effettuati? La visita ginecologica annuale è più che sufficiente. Se poi associamo alla visita ginecologica una vulvoscopia, siamo veramente a cavallo, abbiamo risolto la maggior parte dei problemi. Poi abbiamo Giada Di Macerata che chiede un ginecologo qualsiasi e non di centri specializzati si accorge subito della presenza di un tumore alla vulva? Un ginecologo che abbia studiato e che abbia un po' di buon senso, sì. Sì, bene. Dottor Simonacci, abbiamo Simonetta Di Loreto che dice non avevo mai sentito parlare di tumore alla vulva e chiede come ci si accorge, è mortale? Come tutti i tumori riguardo la mortalità, cioè diventa mortale se viene trascurato e se gli si dà l'opportunità di diffondersi, di fare metastasi. È chiaro che ci si accorge, cioè effettuando dei controlli periodici, visite ginecologiche annuali, come già ha consigliato il dottor Pelagalli, sicuramente è un'ottima prevenzione. Bene. Poi abbiamo Martina di Senigallia che dice come accorgersi dei sintomi e non scambiarli per possibili bruciori che spesso le donne hanno? Allora, come accorgersi dei sintomi, intende, dei tumori alla vulva e non scambiarli per possibili bruciori che spesso le donne hanno? Allora, la diagnosi non può essere fatta sul sintomo, la diagnosi deve essere fatta visivamente, per cui se è presente un prurito, un bruciore, va sempre controllata la zona per cercare le cause, se le cause non si trovano. Cioè, non è che questo può essere un presintomo di tumore, potrebbero esserlo, ma si accompagna a uno stato distrofico locale. Certo, comunque verificare, come ha detto lei, magari con uno specchietto, insomma, poi andare da un medico, chiaramente. Poi abbiamo Laura di Ancona che dice ha una figlia di 16 anni ed è stata sottoposta al vaccino per il papillomavirus sul consiglio all'epoca della pediatra e chiede, questo è sufficiente a scongiurare la comparsa di un tumore? Sicuramente aiuta, perlomeno i tumori a papillomavirus sicuramente sì. Bene, lei, dottore, ha questa domanda altro da aggiungere? Ma direi che sì, la vaccinazione, come dicevamo in precedenza, ha veramente cambiato l'incidenza di queste patologie, perlomeno in tutte le nazioni in cui è stata adottata sistematicamente. Teniamo conto che ormai sono quasi 8 anni, 9 anni, che viene sistematicamente applicata e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Oggi abbiamo tumori della vulva legati all'HPV, molto più rari e quasi sempre, se andiamo a vedere l'anamnesi, in soggetti non vaccinati. E per quanto riguarda i tumori della vulva gravi avanzati, ancora oggi li troviamo in pazienti molto anziane, in cui il grado di avanzamento della malattia non è da attribuire a un'aggressività particolare della malattia, perché è anche una malattia molto lenta, ma al fatto che la donna anziana non accede ai servizi di prevenzione con la stessa facilità con cui può fare una donna giovane. Possono essere vaccinati anche gli uomini contro l'HPV, dottore? Devono essere vaccinati anche gli uomini. Perché si parla sempre delle donne. Eh sì, ma anche qui abbiamo sempre da imparare. Noi italiani arriviamo sempre un po' dopo, poi magari miglioriamo nel tempo, però un po' dopo. Tanto è vero che i paesi scandinavi vaccinano già da anni i maschietti. Da quest'anno, insomma, l'anno scorso e quest'anno, è cominciata la vaccinazione anche per i maschietti. Bene. Poi abbiamo un'ultima domanda, Carla Di Pedaso, che chiede, l'iter per un tumore di questo tipo è lo stesso per gli altri tumori? La chirurgia è risolutiva o la chemia è sempre indispensabile? Direi che la terapia chirurgica nel tumore della vulva rappresenta il 90% del presidio, se non il 95%. Una buona terapia chirurgica radicale, fatta bene da persone esperte, rappresenta la soluzione quasi sempre totale a questo problema. In casi di forte espansione del tumore, quindi quando si va ad operare lesioni veramente molto estese e che abbiano già dato interessamento dei linfonodi, la radioterapia vulvovaginale e delle logge linfatiche ha sicuramente una sua funzione. La chemioterapia viene riservata solo in casi estremamente avanzati, che però rappresentano una minima parte di questo tipo di lesioni. Volevo anche dire che, e questo credo che il dottor Simonacci possa confermarlo, la chirurgia della vulva è una chirurgia fortemente distruttiva, fortemente distruttiva, perché va a deturpare un organo che di per sé ha una sua estetica. Oggi il lavoro di quasi tutti i clinici che si occupano di oncologia ginecologica, di dermatologia e di chirurgia plastica è quello di ricostruire il più possibile un organo che dopo l'intervento chirurgico spesso e volentieri è riconoscibile. In questo senso sia i ginecologi che i dermatologi che i chirurghi plastici lavorano in questa direzione e devo dire che c'è stato un netto miglioramento, si è passati dalle lesioni che guarivano per seconda intenzione, quindi lasciate aperte e lasciate quindi guarire progressivamente perché mancava oggettivamente il tessuto per poter ricostruire l'area, a impianti cutanei, impianti in chirurgia plastica, ricostruzione delle labbra, insomma abbiamo fatto grossi progressi. Bene, noi siamo giunti al termine della trasmissione, ringraziamo il dottor Mauro Pelagalli e il dottor Marco Simonacci per essere intervenuti. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento, il mal di schiena e le patologie degenerative lombari, sempre mercoledì alle 20.50 sul canale 11, il giovedì alle 20.45 sul canale 675 e la domenica mattina alle ore 11.50 sul canale 11. Vi ricordo come sempre che potete telefonare alcuni giorni prima la messa in onda della trasmissione per porre le vostre domande chiamando il numero 071 75 74 372 oppure inviare un'email a nertv-chiocciolalibero.it Vi ricordo inoltre che tutte le trasmissioni possono essere riviste su YouTube e che tutti gli aggiornamenti li trovate su Facebook Canale Salute. Arrivederci alla prossima settimana! Grazie a tutti!